Ridurre i costi della politica regionale con una diminuzione delle indennità di carica e di funzione dei consiglieri regionali. E' questo l'obiettivo di una proposta di legge del consigliere regionale del gruppo misto Giannino Romaniello, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa. Romaniello propone in particolare di ridurre l'indennità di carica dei consiglieri, attualmente pari a 6.600 euro, portandola a 5.010 euro lordi mensili ed equiparandola quindi a quella del sindaco di Potenza. Il risparmio annuo ammonterebbe a circa 500.000 euro, che sommato a quello per la diminuzione delle indennità di funzione, porterebbe ad un risparmio totale annuo di circa 685.000 euro. La somma risparmiata per Romaniello dovrebbe essere destinata al sostegno di politiche di inclusione per portatori di handicap, con particolari patologie disabilitanti, dando priorità all'acquisto di strumenti tecnologici innovativi per favorire l'accesso al sapere e alla partecipazione alla vita sociale, culturale e ludica.